ora vediamo un po' di mettere fine alla vita di qualcuno di questi stronzi non volevo colpire lui scusi va bene uguale oh non mi ha tolto un sacco di vita è ok però aspetta un attimo oh sbrigati cazzo guarda la rola via di questo manco ho visto che cazzo ho preso scusi giovanotto venga qui bravo mi piace questa arma ha una grande cattiveria oh ahia bastarda di una scimmia di merda madonna strisciata di sangue occhio che qua c'è l'inculata sicuro no non c'è l'inculata vabbè mi starei a fare più di tante domande comunque se non c'è l'inculata che ho lasciato delle cose sotto si uno eeeh qua mi dà che c'è un oggetto però forse è di di su è di su allora one moment quindi di là ci sono stato di qua però no no si che ci sono stato mi chiedi ok posto eeeh là c'è un oggetto là c'è un tipetto poco raccomandabile cazzo ho lanciato la cosa aia aia dove cazzo vai testa di cacio cavallo allora qua c'è una doppia via eeeh eeeh forse qua mi fa recuperare l'oggetto ok ora è una doppia via perchè ho la scaletta che però forse la scaletta mi fa recuperare solo l'oggetto un momento perchè potrebbe essere solo un passaggio da un po' vanio esatto scheggia perduta eeeh infatti non c'è un cazzo ok meno male che non sono andato di là vanno sempre più lunghi sti cazzo di cose no i rotelloni no qui i rotelloni no qui cazzo eeeh più vicino più vicino signor rotellone no 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 via porca ma l'ha preso per il culo non so se l'ha fatto apposta ma se l'ha fatto apposta è tanto di cappello rotellone di merda allora vedo se c'è qualche incolata qua sembra di no lì c'è un'altra scala qua ci sanno scale su scale eeeh ma la scala dov'è? di là eh non ci posso arrivare là ah cazzo ah cazzo rotelloni a rompere allora vai che ci arrivi bravissimo l'oggetto qua è di sopra vabbè vai con l'altro rotellone bravissimo no via 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 toiti di là posto eeeh posso andare di qua senza bruciarmi si attivatore ma è stata un bel però sono quelli non non mega power attenzione chi è lei? che cazzo fa? oh aspetta un momento un momento sono confuso oh bella bella allora ce l'ho fatta non so come venga venga a te ti voglio uccidere con dolore con dolore ti voglio uccidere perché mi riuscì cazzo tutto sarei pure una cura è proprio via della stagura ma che ha 58.000 anni ma non sono mica scemenze allora aspetta di qua si va a raccogliere un oggetto titanio della regina ottimo aspetta però no no oppela ma che cazzo sta scimmia di merda qua si recuperano solo oggetti o cazzarola bam porta scheggia perduta accedo la regina eh posso migliorare il mio impalatore all'infinito adesso attivatore vg per 3 vestigio ok più una scaletta che fa sta scaletta eh può essere che di qua si prosegua comunque o no eh di qua si aprono altre vie scheggia perduta grande eh boh vediamo va più di qua non ci sono stato cromo stacalaca ah cazzo un altro di quelli no 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 non ne voglio fare più di quelli ah qua è dove ero prima forse si eh quello sicuramente protegge qualcosa di prezioso però tra l'altro c'è un ah c'è un boz qui ecco come ci arrivo merda eh ma ci sono 200 via però capito che c'è la mappina però insomma queste strade no 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 questi sono cattivissimi oh ma che ma che cazzo eh vabbè però e vabbè però cioè non puoi fare un nemico che ti spara 72 colpi in un secondo e te ne metti due insieme e il mio personaggio sta fermo come il provolone appena prende il primo colpo eh che cazzo c'è ho due milioni di anime da presso ma vaffanculo va facciamo una cosa veloce qua perché non è che c'è tutto sto tempo da stare presso a sti scimmiottoni di merda avanti avanti e muori eh vaffanculo e mo va a ricordare la cazzo di strada che ho fatto va stanno pure i rotelloni senta io io me ne andrei eh non c'è cosa però c'è la scaletta qua ciao arrivederci arrivederci e grazie no grazie proprio no però arrivederci si ah qua ci stava l'amico frizzi che tanto l'amico non è qua ci stavano i rotelloni che amici non sono aia aspetta un attimo aspetta un attimo aspetta un attimo vabbè dove cazzo sto andando aia 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 madonna quanti nemici ma si può vedi di sta cazzo di scalare non ci pensare mezzo secondo vai 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 fuggi fuggi eh ma ancora ho recuperato le anime cazzo madonna ma sta zona veramente cattiva eh zona cattivissima ovviamente che di qua si torna indietro eh mo non so se riprovare a fare i tizi ah vedi di qua si 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 oh ma che cazzo vuoi ma scusate signore scimmia ma riusciamo a trovare un compromesso magari la locchi la scimmia magari è pure meglio manco ho visto che cazzo ho preso ma porca di quella mignotta va allora qua la situazione è un po' molto complessa è un po' molto complessa io vorrei fare fuga fuga via via fuga nel lato sbagliato scusa 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 no ci ho ripensato ci ho ripensato via 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 fuga ma dai ma che cazzo stai aspettando testa di merda si sale la scarretta così con calma vabbè aspettiamo che cazzo ti aspetti testa di cazzo proprio non ce l'ha la paura di morire questo tipo eh ma mo' gliela faccio venire io perchè gli faccio prendere una serie di inculate e non sarei scorta più eh cominciamo guarda ste scimmie di merda avanti vedi sta scala e non rompere il cazzo sta due cazzo di ore fermo dopo che sarà una scala due cazzo di ora guardare il nulla e aspettare con un cazzo di provolone che gli piovono di sopra forse la scala di là è più utile non lo so vabbè ma di fatto che non l'ho presa rompere il cazzo con i rotelloni con 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 moni e vaffanculo te lo posso dire vaffanculo aspetta un attimo eh no per forza vai 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 rotola 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 verso dove non lo so ma tu rotola titanico della regina sono due bene bene ma che cazzo vuoi ma signore ma si fa così ma guarda testo testo di cazzo va curati va va pulivi i mini boss ci sono un momento che mo mo vinculo tutti eh però piano piano occupa la sto minchia di vestigio va è banco è la strada giusta aspetta aspetta facciamo su giù facciamo su giù come come gli stronzi zitto zitto non ci pensare più quindi questa è una strada chiusa è quello lì da dove cazzo è venuto scusatemi non per cosa basta basta eh no è una strada chiusa là c'è una scala eh là c'è un oggetto là c'è un tipo ma questo tipo vuole scendere per caso no 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 di lì non di lì scenda dall'altro lato e vaffanculo scenda di qui bravo 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 adesso sbrigati 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 che c'è in cula c'è in cula c'è in cula c'è in culato oddio ok trucchetto trucchetto old style allora vediamo qua se possiamo riuscire se riusciamo ad inculare qualcuno a distanza direi proprio di no aia ok ok è stata un'azione da banico evasiva giusto così se riesce a venire qui così siamo parati dal tizio bene 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 ora dobbiamo affrontare il cosino eeeh aiaiaiai dobbiamo affrontare lo stronzo questo è un vestigio no è tutto rosso ebbah dai ero due metri ma che cazzo è mi perdoni signor signor lei io io andrei aiaiai i rotelloni i rotelloni no 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 che cazzo è sta cosa no para 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 qualcosa a bianco eeeh vabbè però scusami ma se questa non è la via qual è la via giusta madonna che cattiveria sto tizio mamma mia che palle ma dove cazzo devo andare vabbè si corre senza alcun problema si corre facciamo con ste scimmie di merda con sto rincoglionito del cazzo no no la scala la scala vai con la scala vai con la scala fri-ga-tee madonna la nentezza la nentezza ha fatto il rincoglionito dai-ela allora qua c'è l'omaccione che io eviterei con saggezza dove cazzo il roto lì torna indietro testa di minchium qua c'è il rotellone io però non ho capito dove devo andare un momento rotelloni rotelloni eh vaffanculo lo posso eh dove cazzo vai qua non si va da nessuna parte topino mi hai fatto saltare in aria madonna un attimino un attimino un attimino sto per morire madonna topino che vuole topino cavolo vuoi fare un giochino allora 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 ah là c'è lo stronzo con le mie anime e l'intenzione di andarci ce ne sono veramente ben poche di qua si va allo stronzo e di qua non si va da nessuno a parte le scimmie che cazzo fai erano due le scimmie infatti sta qua l'altra scimmia è scimmia malefica olè ok di qua non si va da nessuna parte di qua non si va da nessuna parte eh quindi devo provare a battere il tipo ma eh seriamente cioè non c'è un'altra via mi fa una paura da pazzi quel tipo non ho tipo cose che aumentano la difesa da panico una eh no antirentezza no queste cose no eh antiveleno no cartuccia eh cartuccia sanguinosa la potrei provare o inibente eh questo lo potrei utilizzare allora no questo che è ho ottenuto un buff fulmine quindi posso mettere il buff però non mi serve il buff fulmine quello è già fulminato di suo questo che è buff ghiaccio eh magari il buff ghiaccio lo posso provare eh ma dove cazzo vai testa di merda quindi posso mettere il buff il ghiaccio adesso no non è vero eeeh vabbè allora utilizzare quelli là la resistenza all'elettricità e il potenziatore di di mobilità questo 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 tutte cose tutte cose oh mi schiaccia in mezzo secondo e vabbè manco ci arriviamo però così eh avanti avanti backstep devi fare backstep e basta per non pensare ad altro solo backstep backstep non gli dobbiamo dare il tempo di fare nulla solo backstep dove cazzo sono testa di merda guarda già mi stavo facendo inculare con una testa di cazzo ma come ma come ma dai ma com'è che un colpo di spada mi ha shottato ma smettiamola e vaffanculo però mi chiama non si può giocare così però che ti shottano ma che cazzo è ma vaffanculo va porca di quella mignotta ho trovato una cosa nuova allora banno dentro al bianco senza l'elettricità più tre però fisico molto meno attacco cazzo è il papa no è ancora più lento ma perché nessuno indossa le maniche in questo gioco siamo tutti giubbottini con le maniche però smanicati allora tu devi essere veloce devi essere veloce veloce devi essere veloce come un pulmine come quello che ti ucciderà un topino che vuole giocare allora senti qui giovanotto io me ne andrei attenzione che ci sta il rotellone uppela ma come l'ho evitato aia aia uppela allora di qua di qua di qua mi scusate mi scusate bravi bravissimi allora il rotellone è qua da evitare madonna quasi il culo mi arrivo del rotellone spicciati spicciati vai vai sali 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 bravo ok questa è andata magari non è manco la strada giusta lì però insomma non mi pare che ce ne siano altre tra l'altro qua non ho neanche trovato il il coso per per la mappa allora bam materella dell'altro mondo avanti allora facciamo così così manca se non serve a niente perché se ti sciotta è inutile che che recuperi cosa cazzo recuperi cosa cazzo recuperi se non c'hai niente non recuperi niente arrivi a zero c'è poco da fare fai i backstep cristo però è veramente overpowered questo mostro rispetto agli altri fai i backstep fai i backstep fai i backstep oh eh mo siamo al cazzo di angolo e siamo morti no eh vabbè non è vero non è vero non è vero dagliela dagliela che c'è la tua bina è cattivo il mostro vero è cattivo è cattivo il mostro vero che è cattivo aspetta 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 che è morto siti 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 uh ho recuperato forse anche le mie anime come 8900 porca puntano questo 100.000 anime simmino che c'è tesoro aia eh vaffanculo ma cazzo vai allora ah vedi che si va di qua si recupera qualcosa di qua non sembra ma qua dove c'è il tizio prima si che vuole un topino che vuole vabbè st'attellano mi rompere il cazzo un peluche un peluche un pelucino allora di qua si scende dove ero prima ma non ho intenzione di fare questa cosa e di là c'è un falò falò apposto vi vederci e grazie ole